Proseguono gli allenamenti della Sir Perugia, dei Block Davids che hanno chiaramente in testa l'intenzione di vincere il primo titolo della stagione, la Supercoppa, il grande evento ospitato proprio dalla città di Perugia, sabato 6 e domenica 7 ottobre con tutti gli approfondimenti di Tuff Channel in questo weekend, soprattutto nel caso dovesse essere centrata alla finale per il primo secondo posto, domenica alle 17 con la diretta del pre-partita dei Block Davids che quindi potranno proporsi al pubblico di casa con i nuovi acquisti Lanza e Leon su tutti, la Supercoppa di Lega quest'anno introduce importanti novità del regolamento, allora ci dice tutto nel suo servizio Elena Ballarani. Sabato e domenica si accendono i riflettori sulla nuova stagione del volley italiano con la Supercoppa di Lega, primo appuntamento stagionale in cui a contendersi il trofeo sono le finaliste dei Pelloff Scudetto e della Supercoppa precedente. Può capitare che le squadre finaliste delle due competizioni siano le stesse, come succede quest'anno, Sir Perugia e Lube e a quel punto il regolamento prevede che le altre due formazioni partecipanti siano la terza e la quarta nella classifica finale di Superlega. Ecco dunque che si ripropone lo scontro, come nella scorsa edizione, tra Perugia e Trento, prima gara in programma alle 17 di sabato, e Civitanova e Modena, seconda gara in programma alle 19.30. Sarà lo scontro degli ex, come Simone Anzani e Ivan Zajsev che torneranno a giocare sul Taraflex perugino da avversari, entrambi hanno firmato infatti un triennale con Modena. Ma anche Aaron Russell che nel primo match della Supercoppa incontrerà subito i suoi ex compagni con la maglia di Trento. E dall'altra parte della rete finì Polanza che proprio tra le fila di Trento ha passato praticamente tutta la sua carriera agonistica e sabato scenderà in campo per la prima volta con la maglia della Sir. Ma quella di quest'anno è anche l'edizione delle novità, come quella del cartellino verde, una nuova idea della Lega di pallavolo di Serie A in collaborazione con il settore arbitrale della FIPAV che farà il suo esordio con la Supercoppa per portare un duplice segnale, ottimizzare le pause di gioco, ultimamente sempre più numerose, ma anche un segno di premialità per sviluppare il valore del fair play. In particolare, in occasione di una decisione arbitrale di pall-out e conseguente richiesta di videocheck da parte della squadra in attacco, se l'atleta impegnato nell'azione di muro segnalerà immediatamente di avere toccato il pallone, evitando di andare ad effettuare il controllo con il videocheck, sottraendo tempo al gioco, sarà premiato dal primo arbitro con un cartellino verde. Su questo punto, proprio ieri in conferenza stampa è nato un confronto tra l'amministratore delegato della Lega pallavolo di Serie A Massimo Righi e coach Lorenzo Bernardi, il quale sostiene che la pallavolo andrebbe migliorata in campo e non fuori dal campo. La richiesta di videocheck, secondo il tecnico bianconero, è un diritto. Con la nuova regola ora, dopo il primo videocheck sbagliato, il tecnico sarà redarguito verbalmente, al secondo scatterà il cartellino giallo e al terzo il rosso, dunque un punto di penalità. secondo Bernardi, questo nuovo sistema non aiuta a migliorare, specie in partite calde, quando ci si gioca uno scudetto o una coppa.